Oggi Denise Pipitone avrebbe compiuto 23 anni. La bambina scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazzara del Vallo. A scriverle una lettera è proprio il padre, Pietro Pulizzi. Comincia così. Tesoro, in questi lunghi anni non c'è stato un giorno in cui il mio pensiero e la mia vita non siano state dedicate a te. Il compleanno dei propri figli dovrebbe essere un'occasione in cui la famiglia si riunisce gioiendo di quella ricorrenza, ma per me, soprattutto ogni 26 di ottobre, non è stato così. Gli anni passano, e anche in fretta, e a volte mi sento solo, svuotato dal mio essere. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai, il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso. Se non fosse stato per Piera, la tua mamma, forse avrei già mollato, gettato la spugna e mi sarei lasciato trascinare dal tempo vuoto. Chissà, mi fa male pensare di invecchiare senza averti accanto e non poter nemmeno gioire nel vederti crescere negli anni. È struggente per noi rimanere sospesi, nell'attesa di sapere dove sei, la verità. Pur di riportarti a casa, per te avrei dato anche la mia vita se fosse stato necessario. Le mie parole, forse buttate al vento, le lancio all'interno di una bottiglia che getto nella burrasca del mio mare. Spero possa raggiungerti, ovunque tu sia, figlia dorata, perché tu esisti, non so dove, ma esisti e prima o poi ti troveremo. Sappi che finché avremo vita, mamma e papà e tutti coloro che ti vogliono bene, non smetteremo mai di cercarti. Noi non molliamo. Alla mia dolcissima rondinella, il tuo papà Pietro. Alla mia dolcissima rondinella, il tuo papà Pietro.